Una strada di notte ti fa sempre venire in mente le metafore diverse da quelle che poi di per sé possono esprimere. Una strada buia con questi lumini che ti stringono, che ti chiave. C'è sempre un momento nella vita di una persona dove all'orizzonte si trovano due fari che ti abbagliano, che ti vengono incontro ed è solo un attimo e quei fari sono passati via e rimane la strada buia. Questo è sempre un momento sul quale si può riflettere della felicità e della tristezza e delle meravigliose opportunità che ogni essere umano ha e continua ad avere in questo mondo incredibile. E quindi io vi dico proprio che io ci credo per la bellezza di questa terra, io ci credo. Ciao!